Non si placano le polemiche tra Renziani e Cuperliani sia a livello nazionale che locale. I risultati giunti dalla Convenzione Provinciale del Partito Democratico salernitano hanno confermato i contrasti tra le emozioni che sostengono i principali candidati alla poltrona di segretario del PD. La Convenzione Provinciale del Grand Hotel di Salerno è stata disertata dal gruppo vicino a Simone Valiante che già nei giorni scorsi aveva parlato di scarsa democrazia. Dubbi espressi anche dal coordinatore nazionale della mozione Meccacci. Mario Tullo, rappresentante di Gianni Cuperlo nella Commissione Nazionale per il Congresso del PD, ha affermato che ci sarebbero stati dei brogli avvenuti nei congressi di circolo svolti nel salernitano, chiedendo formalmente l'annullamento della Convenzione Provinciale di Salerno. A provocare la levata di scudi la netta vittoria di Renzi nel salernitano, dove il sindaco di Firenze ha ottenuto ben 25 punti percentuali in più rispetto al resto delle province campane, 71% il dato a livello provinciale e addirittura il 97% nella città di Salerno. Dove la scelta del sindaco De Luca di appoggiare Renzi avrebbe pesato notevolmente. Oltre 2.500 i voti nei circoli del capologo per Renzi contro una cinquantina per Cuperlo. Un voto definito bulgaro su buona parte dei quotidiani italiani e non solo nelle pagine locali. Del cosiddetto caso Salerno si è occupato in prima pagina anche il giornale del PD, cioè l'Unità. I dati ufficializzati a livello nazionale comunque tengono conto anche di Salerno con Renzi oltre il 46%, Cuperlo al 38%, Civati al 9,19% e Pittella al 6%. Come ribadito dal segretario provinciale salernitano Nicola Landolfi, inoltre nessuna contestazione ufficiale sarebbe stata presentata nei circoli della provincia dove i delegati delle quattro promozioni avrebbero accettato i risultati. 25 delegati da eleggere per la convenzione nazionale della Salernitano, convenzione nazionale che ci sarà l'8 dicembre prossimo, 18 per Renzi, 5 per Cuperlo e 2 per Pittella. La decisione dei Cuperliani di disertare la convenzione provinciale però ha impedito le elezioni dei loro rappresentanti, eletti quindi soltanto quelli legati a Renzi e all'euro parlamentare Lucano. La convenzione provinciale del PD ha eletto i delegati per la convenzione nazionale di domenica prossima e ha definito, ha proclamato i numeri che sono usciti dalla convenzione provinciale dei circoli con Matteo Renzi, sindaco di Firenze che ha raggiunto il 71% e il restante diviso per Cuperlo, Civati e Pittella. È stata un'assemblea che ha segnato un altro passaggio di questo lungo e estenuante congresso provinciale che si concluderà finalmente con le primarie dell'8 dicembre e speriamo che siano una grande festa per tutti e soprattutto un'occasione di partecipazione non solo per gli iscritti ma per tutti i nostri elettori.